Buonasera a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le pillole di letteratura giapponese con nip-pop. Il libro che avete scelto per l'appuntamento di oggi è Shanghai di Oko Mizorichi, pubblicato da Atmosfere Libre nella collana Asia Sfere nella traduzione di Costantino Pes. Costantino Pes che ha curato anche un'interessantissima posfazione che ci accompagna nei meandri di Shanghai e nelle stratificazioni di questo romanzo. Sicuramente è uno dei romanzi più significativi della fine degli anni 20, quindi di quel periodo che segna l'inizio comunque dell'epoca Showa, ma che è ancora legato, ancora impregnato dell'atmosfera dell'epoca Taisho, un'atmosfera di libertà e di così entusiasmo. Oko Mizorichi è sicuramente una delle figure più importanti del Giappone appunto fra la metà degli anni 20 e appunto l'immediato dopoguerra, muore nel 1947. Come tante altre figure di spicco non ancora molto conosciuto all'estero. In effetti Shanghai è l'unica sua opera esentrota in italiano, oltre a un racconto uscito in una vecchia raccolta ormai irreperibile. Ma Yoko Mizorichi è una figura fondamentale nel clima intellettuale, soprattutto degli anni 20, perché è stata una delle anime di un movimento che ha avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo della letteratura appunto di questo periodo, che è lo Shinkankakuha, la scuola delle nuove sensazioni, neopercezionismo, come viene tradotto talvolta, del quale è stato membro un autore molto più conosciuto all'estero, che è Kawabata Yasunari. Kawabata Yasunari è il gruppo di giovani intellettuali, artisti, scrittori, che si riunisce attorno alla rivista Bunga e Gidai, fondata dallo stesso Yokomitsu, che è l'organo di diffusione delle idee, degli ideali di questo gruppo, che interpreta in realtà i movimenti d'avanguardia. Appunto Kawabata, dicevamo, è stato sicuramente l'autore più noto all'estero, diventato poi famoso in realtà negli anni della maturità e soprattutto famoso all'estero dopo l'assegnazione del primo Nobel della letteratura nel 1968, primo scrittore giapponese a essere appunto insignito di questo prestigioso premio. Ma appunto Yokomitsu è stato sicuramente l'anima del movimento, un movimento che si pone in contrapposizione con quelle che erano allora le correnti principali dell'arte e della letteratura. Da un lato il naturalismo, che proponeva lo Shishosetsu, il romanzo dell'Io, come romanzo più adatto a interpretare i tempi moderni, e d'altro lato, per esempio, la proletaria Bunga, con la letteratura proletaria, che invece proponeva una letteratura che fosse di impegno, di impegno sociale, di impegno politico, una letteratura quindi all'insegna di una responsabilità civile comunque degli scrittori e della scrittura. Lo Shinkankakuha si oppone a tutto questo. I membri dello Shinkankakuha sono fortemente ispirati dai movimenti dell'avanguardia europea, dadaismo, futurismo, simbolismo, e appunto si fanno interpreti di un nuovo ideale di letteratura, che è ispirato alla modernità e alle sensazioni che in loro suscita la modernità. Il Giappone, siamo nel 1925 circa, al momento di maggiore espansione dell'attività dello Shinkankakuha, si percepiva ormai come un paese moderno. La modernizzazione era finita, quel processo travagliato che aveva portato a lasciarsi alle spalle molto delle tradizioni del passato, degli usi del passato per appunto sposare nuovi valori, nuovi ideali, nuovi modelli anche di vita, era ormai concluso. Il Giappone si riteneva ormai a pieno titolo una nazione moderna. E dalla modernità questi autori, i giovani autori, sono affascinati, in particolare dalla forza, dall'energia, che sembra sprigionare da questo processo di modernizzazione ormai concluso, dalla velocità. E quindi proprio per rendere tutto questo fermento, questo scoppio di energie inarrestabile, è necessaria una nuova parola letteraria. E in realtà lo Shinkankakuha si concentra moltissimo, per esempio sullo stile, sulla forma, che però diventa ovviamente l'espressione e diventa il simbolo anche di un determinato approccio alla realtà e alla scrittura. Quindi una parola che è frammentata, una parola che cerca di afferrare la realtà attraverso dei brevi sprazzi, dei momenti, di renderla in quelli che sono veramente una sorta di fotogrammi trasposti nella pagina letteraria. E questo è evidente in molte opere, per esempio pensiamo a un'opera di Kawabata Yasunari, la banda di Asakusa, Asakusa Kurenaidan, e anche, certamente, soprattutto in Shanghai di Oko Mitsurichi. Per farvi comprendere appunto cosa intendo per lingua frammentata e in che modo appunto la realtà, le atmosfere vengono trasposte nella letteratura senza che vi siano quelle descrizioni costruite sulla base di nessi logici complessi che troviamo nella letteratura più tradizionale, ma appunto tutto sia dominato da brevi flash che si accostano come fotogrammi in un montaggio frenetico e come al centro ci siano appunto le sensazioni che vengono rese nella pagina letteraria, per esempio attraverso l'uso cospicuo delle sinestesie, quindi una frenesia quasi delle sensazioni che si susseguono a una tale velocità che diventa difficile afferrarle, tradurle nella pagina scritta. Vi voglio leggere l'incipit di questo romanzo. Il fiume, gonfiato dall'alta marea, rifluiva al contrario. Un'onda di prue di motobarche affollate a luci spente, file di timoni, montagne di merce scaricata, le gambe nere incatenate dai pontili. Il segnale della stazione meteorologica dalla cima della torre indicava venti moderati. La guglia della dogana marittima era appena visibile nella nebbia serale. I culi prendevano umido sopra i barili accatastati lungo i moli. Nere vele lacere si muovevano inclinate, cigolando in balia del lento moto delle onde. Vagando per la città, Sanchi, volto da eroe medievale, carnagione chiara e aria intelligente, era tornato al bun. Alcune prostitute russe sedevano stanche, in fila sulle panchine lungo la riva. La lampada blu di un sampan, che procedeva controcorrente, girava senza sosta davanti ai loro sguardi silenziosi. «Vai di fretta?» disse in inglese una di loro, girando la testa verso Sanchi. Lui notò le vacchie bianche sulle pieghe del doppiamento della donna. «Vieni qua, c'è posto!» Sanchi taceva seduto in fila insieme alle prostitute. Ecco, questo è l'incipit del romanzo, che ci traccia già l'atmosfera di quella che è la vera protagonista all'interno del romanzo, che è appunto la città di Shanghai. Il romanzo è stato scritto fra il 1928 e il 1931, pubblicato a puntate su una rivista celebre all'epoca, e solo successivamente è uscito in volume. E viene scritto da Yoko Mitsu al ritorno da un soggiorno a Shanghai. Shanghai in quel momento era la città più moderna e più viva dell'Asia. Dopo la fine della guerra dell'oppio, in Cina erano iniziate quelle politiche delle concessioni che avevano portato in realtà a Shanghai a vedere una presenza massiccia delle potenze occidentali, la Gran Bretagna in primis, ma anche poi i russi e altre potenze europee, e anche il Giappone. Quindi Shanghai era un crocevia di culture, di lingue, di etnie, e lo vediamo già in queste prime righe che vi ho letto, Sanchi, in realtà è migrato giapponese, che è uno dei protagonisti appunto del romanzo, e le prostitute russe, la lingua inglese che viene utilizzata per comunicare come una sorta di lingua franca appunto in questo crocevia di razze, di lingue, come abbiamo detto. E ovviamente tutte queste figure che sono presenti a Shanghai, tutti questi paesi che sono presenti a Shanghai si rubano e si prendono un pezzetto in realtà della città, di una città che vive di una continua frenesia, la folla, gli edifici, le stradine ancora tradizionali che si affiancano invece ai grandi viali, percorsi incessantemente dai risho. Ecco, Shanghai è tutto questo, la città più moderna dell'Asia, un vero crocevia di interessi, di interessi economici in primis, e poi anche politici naturalmente, è una città che si muove in un flusso continuo. Infatti all'inizio l'immagine, la prima immagine che ci appare è quella dell'acqua. Shanghai si trova sul fiume e ovviamente il fiume rappresenta una delle principali vie di comunicazione, una delle principali vie di commercio, è proprio la presenza delle vie d'acqua che fa di Shanghai un nodo centrale e attira ovviamente l'attenzione anche da parte delle potenze straniere. Potenze straniere, fra cui anche dicevamo il Giappone, che sono presenti attraverso le concessioni, che sono presenti attraverso la gestione comunque di molte delle attività industriali o manifatturiere della città, in particolar modo per esempio le manifatture tessili. E dal punto di vista storico, al centro comunque del romanzo che è ambientato nel 1925, troviamo in realtà la grande rivolta operaia che scoppia il 30 maggio. Il 15 maggio in una delle manifatture tessili della città, un operaio era morto, uccisero le truppe giapponesi durante un momento di scompiglio e 15 giorni dopo, il 30 maggio, in realtà truppe, questa volta al comando degli inglesi, attaccheranno una folla di dimostranti uccidendo molti di essi. e proprio da qui si scatenerà invece una rivolta che sarà destinata poi a durare per molto tempo e a trasformarsi in uno sciopero generale che creerà ovviamente dei grossi problemi sia di ordine pubblico ma anche dei problemi ovviamente di natura economica agli stranieri presenti ovviamente a Shanghai. Quindi un momento cruciale e tutto questo ci viene raccontato attraverso le figure di vari personaggi che si muovono all'interno della città come trasportati da questo flusso incessante di cui appunto i corsi d'acqua che vengono menzionati anche all'inizio del testo sono una metafora. Shanghai è una città in movimento, una città fluida dove si intersecano, si scontrano e si intrecciano interessi di vario genere. figure appunto di varia provenienza quindi al centro abbiamo soprattutto alcuni emigrati giapponesi quindi in un certo senso come dice giustamente Costantino Presta nella sua posfazione il romanzo può essere interpretato come un racconto in realtà di spaesamento, di sradicamento. Ma al di là di questo compaiono poi altre figure, le prostitute russe ma altre donne arrivate dalla Russia sia un paio di francesi, tedeschi, inglesi e anche appunto cinesi in particolare la figura di un attivista del Partito Comunista una donna affascinante che in qualche modo diventa il simbolo della rivolta. E in tutto questo anche è molto interessante l'immagine che viene tratteggiata del Giappone. Il Giappone che viene ripreso è ritratto in tutta la sua ambiguità. Il Giappone che in quel momento si concepisce come l'azione moderna che è pronto in realtà già psicologicamente all'impresa che poi lo porterà all'invasione dell'Asia con la creazione dello stato fantoccio del Manchukuo diversi anni dopo. Il Giappone che si presenta all'Asia in questo momento come un'alternativa in realtà all'Occidente ma che di fatto è alleato di quello stesso Occidente e quello stesso Occidente prende a modello. Noi sappiamo che negli anni successivi Okomizu sposerà la causa nazionalista ma in realtà invece in Shanghai emerge una posizione da parte sua molto più ambigua, molto più critica nel tratteggiare appunto un paese che ha dei forti interessi a Shanghai che cerca di ovviamente tutelare e di proteggere anche con le armi ma nello stesso tempo non riesce a essere veramente un punto di riferimento per i suoi espatriati e i protagonisti principali del romanzo in particolare Sanchi che vediamo già introdotto all'inizio e poi Otsugi un'altra figura che incontreremo successivamente sono entrambi destinati in realtà in questa Shanghai in continuo movimento in un flusso continuo fra la vita, la morte la celebrazione della vita e la decomposizione sono destinati appunto a scendere fino ai gradini più bassi della società e sostanzialmente a perdersi un romanzo molto interessante che proprio tra l'altro in questo ritratto del Giappone e in questo ritratto della sua posizione ambigua dell'Asia propone senz'altro un discorso quanto mai attuale appunto un romanzo che sicuramente merita di essere letto che vi mostra un altro aspetto comunque della letteratura giapponese e svela anche un altro tassello comunque della storia del Giappone del Novecento quindi Yoko Mitsuri Ichi Shanghai traduzione curatela di Costantino Pess e pubblicato da Atmosfera e Libri nella collana Asia Sfere buona lettura a tutti come sempre buoni libri e arrivederci alla prossima pillola Grazie a tutti